Salve a tutti! Oggi la Sole Energy Group vi spiegherà cos'è il microeolico. È una pala eolica con dimensioni molto ridotte, atta alla produzione di corrente elettrica in maniera pulita. Perciò fa parte dei sistemi a fonte rinnovabile, vanta semplicità di produzione, installazione e affidabilità. Pensate che in Italia l'energia elettrica proveniente dal vento illumina 1.800.000 case ogni anno. Da cosa è composto un sistema microeolico? Un impianto è formato dalla torre di sostegno, dal rotore a cui sono fissate le pale, dal generatore e dal freno che sono all'interno della macchina, il quale interviene solo in caso di emergenza, in cui il vento sia così forte da poter compromettere il sistema. Come funziona l'impianto? Attraverso la forza del vento che, colpendo le pale del microeolico, permettono ad esse di ruotare e di conseguenza mettere in movimento il generatore che trasforma l'energia meccanica in corrente elettrica continua, che però non può essere direttamente utilizzata dentro le abitazioni. Come diventa sfruttabile questa energia nella tua casa? Siccome le utenze domestiche utilizzano corrente alternata, è necessario un apparecchio, detto inverter, per effettuare questa trasformazione e rendere l'energia del vento fruibile all'interno della tua casa. Cosa succede se non utilizzi tutta l'energia che produci? L'energia in eccesso che non riusciamo a utilizzare, o meglio autoconsumare, che genera risparmio in bolletta, viene messa nella rete esterna e valorizzata economicamente attraverso il sistema di scambio sul posto. Posso vendere l'energia che produco senza utilizzare nell'abitazione? Certo! La corrente elettrica prodotta dai sistemi eolici può ancora beneficiare degli incentivi vigenti. Infatti, se non vi vuole connettere l'impianto e non utilizzare l'energia a casa, possiamo vendere tramite il gestore dei servizi energetici, GSE, tutta la corrente prodotta ad un prezzo di 0,268 euro chilowattorari. In che modo aiuterai l'ambiente tramite il tuo impianto? Forse non lo sai, ma i consumi elettrici annui della tua abitazione sono complici dell'emissione di circa 500 kg di CO2. Con i mezzi giusti puoi ridurre notevolmente le emissioni della tua casa e abbattere 300 kg di CO2, riducendo l'inquinamento e risparmiando anche sulla bolletta. Noi abbiamo a cuore il pianeta che ci ospite, tu? Se il video è stato di vostro carimento, per maggiori informazioni cliccare qui sotto. Un saluto e al prossimo video!